Quando è l'ultima volta che avete sentito Patrizia? Il 25 di questo mese di aprile. Cosa vi ha detto? Niente, perché ha parlato con la mamma che stava bene e di non preoccuparsi. Poi da lì è spento tutto, il cellulare non risponde più. L'ultimo contatto telefonico risale allo scorso 25 aprile. Poi Patrizia Scortecci, una 46enne a retina, è come scomparsa nel nulla. Cresce così giorno dopo giorno la preoccupazione dei familiari. Soldi senza cellulare, senza niente di niente. Non sappiamo né come contattarla, né dov'è, né come sta. Niente. La donna aveva lasciato qualche mese fa a Rezzo. Si era trasferita a Napoli per raggiungere il fidanzato Simone. Si erano rincontrati, hanno deciso di vivere insieme, però dove e come questo non si sa. Negli ultimi giorni tra i due ci sarebbe stato però un litigio a seguito del quale lui l'avrebbe cacciata di casa. Lo scorso 26 aprile i due si sarebbero rivisti un'ultima volta. Stefano le avrebbe anche lasciato dei soldi. A quel punto lei avrebbe dovuto prendere un treno per raggiungere la capitale dove vivono alcuni parenti. Non si è più sentito niente. A Roma non è arrivata perché i parenti non ci hanno avvisato per dirti che era lì, che l'avevano vista. E niente. Dal 25 non si sa più niente. È così scattata la denuncia di scomparsa. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri al vaglio dei militari. Anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione di Roma. Siete preoccupati? Abbastanza, direi. Cos'è che vi preoccupa? Tutto. Sicuramente tutto. Che sia finita in brutte mani, che gli sia successo qualcosa. L'importante è che magari stia bene. Se dopo aveva scelto di fare un tipo di vita la cerchiamo, però magari una telefonata per essere più tranquilli non guasta. Non guasta, c'è Roma.